Paypal e il settore del gioco, questo connubio da che cosa nasce? L'interesse nel settore del gioco a distanza nasce nel 2009, in quanto a seguito della regolamentazione 2006 del decreto Bersani abbiamo incominciato a osservare questo specifico settore, molto interessante, in forte crescita, però per ovvi motivi di policy interna e di restrizione abbiamo deciso di osservare il mercato attentamente fino a inontrarci in questa avventura nel 2009. I risultati e più che altro la risposta dei nostri consumatori e merchant è stata immediata, siamo soddisfatti della nostra strategia di acquisizione e credo che ancora una volta possiamo offrire un vantaggio in più ai consumatori, proponendo un servizio di pagamento immediato semplice da usare ma soprattutto sicuro e un valore aggiunto anche ai merchant che utilizzano un canale innovativo, propongono un canale innovativo ai loro basi utenti esistenti. Ecco, l'incidenza del settore del gioco nelle vostre transazioni totali, c'è una cifra che ci può dare? Purtroppo siamo un'istituzione finanziaria e non possiamo divulgare dei dati specifici, comunque nel settore dell'e-commerce, l'italiano Paypal ha raggiunto un volume del 14%, volume di pagamenti quindi in comparazione con altri sistemi e nel settore del gioco appunto abbiamo iniziato due anni fa, siamo una start-up a tutti gli effetti. La partnership con l'Automatica penso sia anche importante. Sì, assolutamente, l'Automatica fu uno dei nostri primi partner, ad oggi collaboriamo con B-Win, Party Poker, Intralot e l'Automatica. L'ultima domanda, il mondo del mobile, il gioco guarda sempre più a questo settore ma anche il settore del mobile guarda sempre di più al mondo del gioco? Sì, assolutamente, come dicevo prima, al nostro interno reputiamo il canale mobile come un canale già esistente, non qualcosa di astratto, in quanto nel 2010 il volume totale transato sul canale mobile di Paypal è stato pari a 750 milioni di dollari. Complimenti!